Svanito il sogno serie C dopo aver lungo dominato il campionato al Trastevere non resta che onorare l'ultimo impegno in casa prima dei playoff. Prova a servirlo, staffa, non lo trova, poi rimessa battuta e la conclusione è da lontano con Andrea Conti, si butta dentro Tagliarol, non viene servito dall'otto. Adesso si preferisce passare da Madedu centralmente, drilling secco del 4, entrato bene in partita, larga a destra, ancora di ritorno per Madedu che in spaccata prova a calciare, chiuso da Lazzarini, calcio d'angolo, poteva far meglio avendo un tantissimo spazio davanti ma il pallone resta comunque in campo, largo, cruz, deviazione, l'ho ristradita, la mette in mezzo, Conti, poi Sordili rischia perdendo il pallone, all'indietro c'è Guadalupi con il tacco per Covarelli che calcia murato dalla spaccata. Intanto Conti ha un po' di spazio, pensa al tiro Conti, lo fa partire, è un po' centrale, battuta col mancino sul secondo palo per il colpo di testa e il palo di Cruz. Appoggio di Tagliaroll, Fontana la difende in era di rigore, circolato da maglia rosso, blu scarica allora per Tagliaroll che finta il cross con il destro, poi rientra sul sinistro, Conti al limite, torna da Tagliaroll che si sgancia, un po' di spazio, Tagliaroll, calcia Tagliaroll. Guadalupi, Cruz si muove in profondità al numero 7, si preferisce andare a destra da Sciamana, uno contro uno, ce l'ha sul mancino, pensa al tiro a giro che parte ed è un gol pazzesco di Sciamana, 1-0 del Flaminia. Si è inventato un grandissimo gol Jacopo Sciamana che in realtà non ha calciato a giro, riceve ancora il 9 che lancia a lungo, eranzi Sciamana, eccolo Cruz che riceve da staffa lungo il lato corto sinistro dell'area, va giù un calciatore del Flaminia a terra, Covarelli, rimpallo, secondo palo, prova ad arrivare al 5-14 che calcia a giro sulla linea di testa, salva Giordani, non è finita l'azione, Cruz ancora, ancora Giordani, miracoloso in due occasioni Valerio Giordani. Madeddu, si apre Ferlicca, dentro da Roberti che vince il rimpallo, calcia di prima con il mancino, sulla traiettoria c'è Tagliarol, si alza però la bandierina dell'assistente ed è fuori gioco. Che non salta, lo russo, Tagliarol di ritorno per lo russo che può anche pensare al tiro da lì, preferisce adagare il destro, con il destro e fa bene, Squersanti e lui che calcia, sfera che attraversa, si allarga Agresti, Giordani alza la testa e pensa al lancio, Squersanti è tutto solo, palleggia il 19. Il cross dentro per Roberti che la gira di testa, lancio di Giordani, Tagliarol di testa, limite dell'area Squersanti, calcia il volo e colpisce, se non vado errato, Tagliarol sulla schiena. Il suggerimento con l'esterno verso Roberti però c'è il 18, battuta la rimessa, Tagliarol la tiene, prova a girarsi il numero 9, serie di finte, passa alla grande, l'astuzia, poi il palone dentro. Milani, lancio lungo, Lazzarini scavalcato, spizzata di Roberti, Squersanti è l'uno contro uno, la mette al centro ancora per Roberti che non se la ritrova sul sinistro, va anche giù. Fa partire il contropiede del Flaminia sul quale ci arriva uno splendido Ferlic a chiudere, un'azione che sarebbe stata pericolosissima in maniera regolare. Break del Trastevere, uno degli ultimi assalti della formazione del Rione, la girata di testa di Roberti che va in cielo, rimane aggrappato contro la forza di gravità e mette alle spalle di Rizzo per l'1-1. Uno sguardo al cronometro, triplice, fischio di Riccardo Fichiera si chiude con un pareggio, l'ultima giornata del Trastevere in questo campionato appuntamento ai playoff.